Impegno degli esseri di luce. Noi, i vostri fratelli di luce. Ci impegniamo ad aprire la strada tanto a lungo quanto ognuno di voi lo desideri verso il cammino, che vi indicheremo. Noi, i vostri fratelli di luce. Ci impegniamo a porre dinanzi a voi delle esperienze, che vi faranno crescere. E a volte soffrire, purché possiate acquisire il discernimento e una più grande stabilità emotiva. Noi, i vostri fratelli di luce. Ci impegniamo a farvi prendere coscienza sulla vostra appartenenza all'universo e a guidarvi verso la gioia immensa, che ci vedrà tutti riuniti. Noi, i vostri fratelli di luce. Ci impegniamo a proteggervi lungo questa strada come una madre protegge il suo piccolo, a darvi tutta l'energia e l'amore necessari per permettervi di avanzare. Noi non vi sosterremo ma guideremo i vostri passi. Noi non prenderemo la vostra mano. Ma vi daremo la forza necessaria affinché possiate raggiungerci. Noi, i vostri fratelli di luce. Ci impegniamo a darvi tutto ciò che sarà necessario a mano a mano che capirete. Affinché possiate meglio e più velocemente avanzare verso la luce. Cari amici. Per prima cosa vorrei ringraziarvi nell'accompagnarci su questo percorso di luce. È molto importante, nell'epoca attuale, essere il più numerosi possibile per vivere questa trasformazione interiore. Così che potremo aiutare coloro che ci circondano e la Terra in vista della grande transizione. Da 22 anni, gli esseri di luce ci insegnano con molta pazienza e amore a prendere coscienza di ciò che noi siamo e ad acquisire molta più saggezza. Un insegnamento di saggezza e di amore è sempre uguale nel tempo. Al contrario, nel momento in cui vi sono dei messaggi specifici concernenti avvenimenti precisi, le date possono avere una importanza. È dunque primordiale restare positivi nei nostri pensieri, nelle nostre parole, di pregare e di inviare molto amore a tutti i nostri fratelli umani, ad ogni forma di vita così come a nostra madre la Terra. Siamo tutti uniti su questo bel cammino di luce. Vi invio tutti i miei pensieri di amore. Monique